Ecco un nuovo numero di Rizza Psicosomatica, a cui troverete allegato il mio manuale dell'autoguarigione. Questo numero è dedicato ai sensi di colpa, a questi pensieri che invadono il nostro spazio. Molti vengono in psicoterapia e dicono, ci sono dei pensieri più forti di me, mi portano via il tempo, mi portano via anche la gioia. E io sai cosa rispondo in genere? Perché li vuoi mandare via? La stanno chiamando? Come chiamando? Sì, sì, la stanno chiamando. Vedi, noi pensiamo che il senso di colpa sia legato a qualcosa che abbiamo fatto, di sbagliato. Oppure pensiamo a un nostro carattere che non ci piace, a delle serate in cui il nostro carattere è emerso con la sua rabbia, o con la sua timidezza, o con le sue caratteristiche, e non ci siamo piaciuti. E allora il nostro Dio lavora e ci dice, hai sbagliato quella volta, ci fa trovare dei pensieri che ci disturbano, ci fa sentire sbagliati. E io dico sempre, signora, se i sensi di colpa vengono a trovarli, vengono a depositarsi dentro di lei, li tratti come voci che la chiamano, cioè che le dicono, guarda, guarda, che non stai andando nella tua direzione, guarda, che non stai facendo le cose per cui sei adatta, guarda, che ti stai sbagliando. Francesca, per esempio, è la migliore nella sua università, la più brava, eppure molto scontente, molto infelice. Si colpevolizza del fatto che ogni tanto ha dei momenti di vuoto, che questi studi in cui lei è la più brava, ogni tanto hanno delle interruzioni. Per esempio, non si preoccupa affatto che con il suo ragazzo lei non provi niente quando ci va letto. È molto più importante colpevolizzarsi perché ha dei momenti di vuoto nei suoi studi, dove era migliore, che non chiedersi se la sessualità in una ragazza di 23-24 anni debba completamente andare sullo sfondo. Un signore di 65 anni che ha raggiunto nel suo lavoro forse uno dei punti più alti, i figli laureati, tutto a posto, guadagnano bene, una vita che funziona. La moglie che dice, guarda, ha tutto ciò che vuole, ha tutto ciò che desidera. Perché deve sentirsi infelice? Programmiamo ogni anno un viaggio di un mese? Lavora ancora forse più di prima, ma perché dovrebbe essere infelice? Perché deve ricorrere agli antidepressivi? Perché ha paura di ammalarsi da un momento all'altro di una malattia gravissima? E perché? E perché? Ogni tanto lo sento sussurrare fra sé e sé, forse è meglio se la faccio finita. Allora, il senso di colpa è il senso di colpa reale? È quello che tu sperimenti? I brutti pensieri sono brutti pensieri reali? È il senso di colpa per qualcosa che stai sbagliando o che hai commesso di errato? O è il senso di colpa per non essere stato ciò che eri per davvero dall'inizio? Ciò per cui eri destinato? Se per esempio dentro di te, come succede in questo uomo di 65 anni, o come succede in una giovane Francesca, se dentro di te c'era un lato di te che non compare più, il signore di 65 anni, per esempio, aveva una passione sfrenata per la pittura. Dipingeva, 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 via via, andando avanti negli anni la pittura è sparita. È come se il cervello creativo fosse morto. Allora il senso di colpa non è perché non sei stato all'altezza in certe situazioni, ma il senso di colpa è perché hai perduto un lato di te, un'energia antica, primordiale, creativa, di cui ti sei dimenticato. L'inconscio, bisogna saperlo, non ti vuole in una sola direzione. L'inconscio non vuole che tu raggiungi soltanto obiettivi reali. Non vuole che raggiungi un successo reale. Sì, gli fa piacere, come fa piacere a te. Guarda, nel mio lavoro sono stato promosso. Finalmente sono diventato uno che guadagna molto di più di prima. Tutte le volte che ti attacchi alla realtà e pensi che lì ci sia la tua felicità, ti sbagli. C'è una felicità momentanea che serve a darti l'energia per ricordarti che nel viaggio che stai facendo c'è qualcosa di creativo che non devi perdere di vista. Il senso di colpa non è per quello che è accaduto. È perché hai perso un lato di te che per esempio da ragazzo c'era. Hai perso un lato di te che trovi secondario. Il vero pericolo per l'anima, intesa nel senso del mondo interiore, dell'inconscio, è l'aridità. Quando smetti di portare con te la parte giocosa, quando smetti di dare importanza a quelle che sono le azioni minime, le cose che secondo tutti gli altri farebbero perdere tempo, ti ammali. Quando pensi che è molto più importante il tuo lavoro, della gioia, del piacere di una relazione, ti ammali. E quando ti ammali arrivano gli psicofarmaci. Mi fa molto piacere sentire, leggere nelle vostre mail, che molte persone, quando hanno dato spazio alla loro creatività, via via hanno sospeso gli psicofarmaci. Vi auguro una buona lettura. Grazie a tutti.